Per il piano casa, per la sua discussione in aula, pensavamo, speravamo, credevamo in prima battuta una maggiore coerenza da parte delle forze politiche che in campagna elettorale si erano dichiarate contrarie, in particolare penso a SEL e alla lista civica Marino, che invece su questi temi o si astengono o non sono presenti in aula, addirittura in alcuni casi votano a favore di questi provvedimenti. Oggi queste due delibere, una al piano casa di Alemanno e l'altra, quello della Polverini, portati avanti da Zingaretti e da Marino e saremo con ogni probabilità l'unica forza politica ad opporci. Grazie a tutti! Grazie a tutti!